ciao amici e bentornati sul mio canale oggi vi mostrerò due metodi facilissimi per utilizzare l'isomalto come elemento decorativo delle vostre torte dandogli un tono professionale e moderno vi servirà ovviamente l'isomalto un tappetino di silicone qualche colorante alimentare in gel e degli stuzzicadenti c'è da dire che l'isomalto si scioglie ad alte temperature quindi serviranno dei guanti da forno e dei guanti in lattice in modo da poterlo manipolare senza bruciarsi io uso il microonde per comodità all'intervallo di 30 secondi alla massima potenza finché non risulterà liquido non mi resta che augurarvi buona visione e ricordarvi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video alla prossima ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti